Due vittorie, questo l'esito delle formazioni di lettantistiche di calcio nel weekend appena passato. Per la seconda giornata del girone di ritorno della prima categoria, l'audace Cerignola vince per 1-0 sull'ostico terreno degli oltrattivi Altamura, con la firma di Vito Morra al rientro dalla squalifica di una giornata. Gol realizzato nel secondo tempo dopo un primo tempo difficoltoso. Negata allo stesso giocatore, la gioia del raddoppio per un ruorigioco inesistente. Prossimo impegno è in casa al Monteresi domenica prossima contro il San Marco, già battuto in Coppa Puglia. Ritorno al successo per la sportamania Cerignola. Nella seconda di ritorno della seconda categoria, i ragazzi guidati da Michele Schiavone hanno vinto per 5-0 contro il San Nicandro Garganico e mantengono il condominio dell'alta classifica con il Sauri, che ha espugnato il terreno del Candela per 2-0.